guarda lì allora questa si chiama catenaria di mufe occhioni peccato peccato che l'individuo abbia la sigaretta in bocca che fa schifo però qua è un altro discorso ecco peccato penso che ho fatto vedere le fotografie le riprese i miei amici mi hanno detto ma quello ha sempre la sigaretta